Guarda di qua, lo vedo eh, hopla, hopla, era bagnatino, oh, c'era sulla spalla, riprendimi, riprendimi, stai riprendendo, hai fatto una bella riprenda, mentre ti veniva incontro, quanti sono al 5? 5, oh. 6, 7, 6, va bene, riuscite, comunque questa resta sempre l'emozione più grande, sono tutti gli animali, ma quant'è grosso questa? Ah, questo di qua, questo di qua, mi pregge a me? Ma c'è un fortissimo odore di biscotte, oh, in serio? Oh, mi spruzzi? E qui dietro, c'è un altro grosso odore che tra poco arriva, c'è spazio? Aspetta, arriva, 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 eccolo, uh, intanto qua gli si è creato traffico, guarda, si sopra questo è un po snotto, guarda questi, uno sopra l'altra, sopra questo, yeah! Si è recreato un po' tipo, puffa! ma ti lecca? si con la pulizia della vecchia? si ma se ne riesci a riprenderlo un po' i miei brividi che mi guardi tu? questo mi guarda è piacevole eh? con la lingua dentro l'orecchio poi mi viene uno di te non litigate però e poi uno si può avanti sono diventato un albero tutti si guardano l'intorno tranquillamente oh che fa? perché c'è quello lì che fa? eh guarda questi tre guarda ah sti due guarda avvicinarti troppo però eh? massimo zoom ma non avvicinarti guardali, guardali, vedi cosa fanno? guarda 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 vedi cosa fanno questi tre? tutti tre guarda oh la piuma ah stava passando la piuma oh mi ha aggiunto un terzo non un terzo un quinto un sesto un sesto ah 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 fa così sono bellissimi ma sono senza parola ho preso di 5 dollari spesi bene si ma ce l'ha tutti vicinissimi c'è ancora un po' meno è ancora un po' meno oh ricomincia è andato dietro è passato di qua è di qua ce ne ho due di qua due di là due di là tu hai sulla spalla e non te ne fai fino a quando non te ne andranno loro? no guarda questo che scende questo qua di nuovo ricomincia con l'altro orecchio si con l'altro orecchio si ma guardale i bacini ma non è che per la lingua che c'hanno non sono bacini eh però tu che ti sei girato di qua non per la cacca però non stanno arrivando i tuoi pennuti e che ci fanno qua? le prendi me sono gli ospiti gli ospiti non voluti oh e mi stanno piano piano lasciando che vuoi? che peluda l'ho fatto spaventare l'ho toccato involontariamente con un dito là sotto però è rimasta è per finire eh eh quando finisci fermi prendiamo uno al bagno però l'ingaro non è stupendo sta cosa eh ma il cuore di ci doldre e mi vado a far spendere ahhh